Un colpo secco, i bismendo, ok? I bismendo Ferula, no aspetta Ferula, aspetta ancora Ferula Oddio Mi sta dettagliando, forse vorrei Cambiarlo Ecco qua Allora Era 4 rametti di lavanda E poi mescolo Ok E poi 2 misurini di pisco D'accordo? E poi Ok, frantolo con il pestello Fino a tenere un impasto cremoso Ok, frantolo Poi riscaldo Ok 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 Agito Ok, aspetto E poi devo reagitare per 1, 2, 3, 4, 5 volte E poi uno nell'altro senso D'accordo? E a questo punto Metto il fuoco al minimo E lascio per 4 minuti Aggiungo le radici E dovrebbe diventare blu Ok E questo là è il distillato Superifero Che causa sonno temporaneo Ok Va bene Distillato superifero Che causa sonno temporaneo Ok Ok Va bene Poi Oddio Mi l'ho scartata Ok Tra uno e l'altro Devi aggiungere il muco di vermicoli Il muco di vermicoli Ecco Ok Ok Poi Il prossimo Ehi Ciao Si è appena tornata Dalla punizione Com'è stata? Com'è stata? Ti sei divertita? Come si? In che senso? Non dovevi mettere a posto Degli scaffali? What? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Non ci credo Non ci credo Che l'hai fatto davvero E sei caduta? In tutto ciò Sei caduta? Dal terzo metro? E Ma cos'hai qui? Sei caduta di faccia? O per le mutande sporche di Merlino? La ferita enorme? E non puoi andarmi in infermeria? E non puoi andarmi in infermeria? E ci saranno commentato se hai fatto? Accidenti Accidenti Io non sono brava in queste cose Ok allora Aspetta Con calma Intanto la prima cosa che dobbiamo fare Sicuramente È andare in dormitorio Ok? Così Almeno Non ci vede nessuno D'accordo? Allora andiamo Ok almeno qui Possiamo parlare Allora Fammi vedere bene Allora Mi sembra di ricordare Tu Non hai idea Di che incantissimi servono? No? Non ho dubbi Allora Mi sembra di ricordare Intanto Tampona Tampona con questo cappello Per piacere Ok Mi sembra di ricordare In realtà Che c'è C'è un incantesimo Con la E E Dismendo E Pismendo E Pismendo E Pismendo Ma quante ne so E Pismendo E Secondo me serve per quanto ci si fa male Fondamentalmente Vuoi che lo provi? Tanto peggio di così No? Vale appena tentare Ok Ok Allora Era un colpo secco E Pismendo Un colpo secco E Pismendo Ok E Pismendo No Direi che Anzi Forse sanguino Ancora di più Accidenti Aspetta Secondo me C'era anche Un altro Sì sì C'era un altro Incantesimo Però non mi ricordo cos'era Aspetta Cerco negli appunti Aspetta 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 allora, potrebbe essere qui da qualche parte ecco, ferula, allora dovrebbe essere ferula e c'è scritto che fa una specie di vendaggio alla ferita quindi dovrebbe andare al caso nostro e c'è scritto che bisogna fare un movimento AM però non ho scritto altro quindi non so se tipo si ha ferula oppure si ha ferula e poi il movimento oppure si ha il movimento e poi ferula tipo si ha ferula oppure ferula oppure ferula oppure ferula secondo te è tipo un movimento M quindi forse va iniziala a metà quindi tipo ferula 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 no aspetta ferula aspetta ancora ferula 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 ok quindi lo dico alla fine tipo non qui ferula lo dico alla fine ferula ok ci provo ferula non assicuro niente ferula ferula ok no c'è un pochino migliorato no? però sanguino ancora direi che forse potrei farlo meglio aspetta ci riprovo un secondo ferula ferula no ok era meglio prima ci provo un'ultima volta magari riviengo più prima ferula no c'è qualcosa è venuto non tanto non penso vado bene così sai no ci senti fammi pensare fammi pensare non c'era tipo un'essenza un qualcosa per come mettevi delle gocce e si riformava il primo strato di pelle non c'era ma si inizia con la B con la D l'essenza di Dittamo che scema che scema anzi che genio che genio ok aspetta ovviamente io non ce l'ho presa come lei ce l'ha lei ha sempre la farmacia nel suo paul non so perché ok vado a cercare e torno subito arrivo e torno subito e torno subito indovina chi ha trovato l'essenza di Dittamo c'è c'è scritto sopra se è questo spero si è questo spero per te ok 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 adesso devo tipo shakerare ok 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 vediamo va bene uno, due, tre uno, due uno, due tre va a vedere? wow perla barba rasata di Merlino ma che spettacolo è incredibile questa si che è magia quindi se avessimo dovuto fare come i babbani non lo so tu lo sai come fanno i babbani ma vabbè per fortuna che non abbiamo dovuto fare non so cosa va bene poveri babbani che non possono usare la magia poveri 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 comunque 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 ti stupeficio se non viene la mente di quidditch dai ai provini ti prego quest'anno sono il capitano ti prego ti prego ti scongiuro saresti un portiere perfetto se no mi tocca sopportare quello lì ti prego no 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 dai ma guarda che velocità ce l'hai sai andare sulla scopa benissimo non capisco perché tu non lo voglia fare ma non ci si fa male a parte che non mi sembra tu abbia molta paura dell'altezza però uno su dieci vai in infermeria tu ti assicuro che non te ne accorgi neanche appena ti becca la palla cioè non senti neanche dolore non te ne accorgi neanche dai ti prego lo so che non mi sei niente facciamo così allora uno di questi giorni ci troviamo giù e ti spiego un po' le regole ok così dopo decidi te decidi te in realtà mi devi un favore ti assicuro che sei in grado non posso sceglierti io personalmente però ti assicuro che sei in grado dai ti prego ti prego io lo sai che lo stupificio non lo so fare bene è l'unico che mi viene bene si puoi andare anche devo studiare comunque tocca bene prego allora ci vediamo aspetta lunedì ok vedrai che ti piacerà tantissimo non ne sono sicura bene a presto ciao quanto soffri allora non è rimasto no